Siamo arrivati qui nell'area più interna dove è possibile ancora visitare i bunker e vedere appunto dopo tante passeggiate proprio come stavano ed ecco vedete è poco più di un buco intera con qualche cemento presa così insomma ecco per l'epoca forse andava bene ma visto i giorni nostri ma immaginatevi che tutto intorno a me come vedi c'è proprio la foresta dunque la gente poteva uscire fuori da tutte le parti e provate immaginare ragazzi 18 19 anni chiusi dentro questi bunker in questa maniera guardate ti tocca la pelle sono stato fortunato a nascere dopo perciò sono anche molto contento di aver fatto il programma italia ascolta il piave perché dà voce a questi ragazzi già luigi radio vacanze lungo l'arsena del piave sempre e dovunque